E' forse il caso di dire meglio tardi che mai, ma la strada verso la soluzione dei problemi del dragaggio del porto di Pescara, di fatto paralizzato da due anni, sembra ancora irta, piena di incognite e insidie. Martedì prossimo, 24 luglio, il sottosegretario di Stato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Guido Improta, ha convocato alle ore 18 a Roma una riunione alla quale sono stati invitati il presidente Chiodi, il presidente della provincia di Pescara Testa, il direttore generale della direzione per i porti Caliendo, il provveditore interregionale per le opere pubbliche Carlea, il comandante della direzione marittima di Pescara Pozzolano, il direttore generale dell'Arta Micone e l'ingegnere Nori. La riunione è finalizzata all'individuazione della soluzione tecnico-economica ritenuta maggiormente rispondente alla ripresa dell'attività del porto di Pescara sulla base delle proposte elaborate dal provveditorato interregionale e già illustrate a Pescara. Ciò che chiediamo al governo ha ribadito testa è di prendere in considerazione seriamente le problematiche del porto del capoluogo adriatico che è di competenza statale. Lo scalo è ormai paralizzato e le soluzioni che ci vengono prospettate sono tutte a medio-lungo termine oltre che estremamente onerose. È arrivato il momento, ha aggiunto, che i ministeri competenti affrontino la vicenda in maniera risolutiva dicendo quali sono le somme che sono pronti ad investire sul porto di Pescara per la riapertura immediata. Sulla convocazione romana si registra l'intervento del consigliere regionale di rifondazione comunista Maurizio Acerbo che pone degli interrogativi. Finora dichiara l'unica piattaforma seria per affrontare la questione è quella presentata dall'Associazione degli Armatori e dal WWF e si chiede se Chiodi e Testa l'abbiano studiata. Poi pone una serie di domande. Perché la ditta Nicolai ha quasi ultimato l'iter per una discarica privata di fanghi a Città Sant'Angelo e le istituzioni non si sono attivate? Non è che si vuole imporre a tutti i costi la realizzazione di una nuova vasca funzionale al megaprogetto di nuovo porto previsto nel piano regolatore portuale respinto dalla totalità dei comandanti della marineria pescarese? In questa vicenda dichiara cominciano ad addensarsi troppe ombre che lasciano pensare che non siamo di fronte solo a incapacità. Le emergenze si creano per porre la gente di fronte a scelte indiscutibili su mega appalti o ipotesi di smaltimento inutilmente costose. Prima che Testa e Chiodi vadano a bersi le soluzioni del provveditorato, conclude Acerbo, sarebbe bene che le rendessero pubbliche e oggetto di confronto con marineria e WWF. Grazie a tutti.